Mi trovo al palozzetto dello sport di Vibbo, sono con la Calipo Volley e non pensate che io sia basta, no, sono su un gradino inferiore rispetto a loro. Come vedete accanto a me ci sono dei giocatori ma c'è anche il supervisore generale, anche lui è altissimo, avvocato. L'avvocato Michele Ferraro, supervisore di una squadra così importante, importante non solo per Vibbo, per la Calabria ma per l'Italia, è rappresentativo al massimo. Ha sofferto in tutti i sensi, dal punto di vista organizzativo con un presidente Calipo che si è battuto come un leone per una squadra e per portare questa squadra partendo da dove? Dunque partendo quasi oltre vent'anni fa dalla serie C regionale e quindi abbiamo avuto il piacere noi altri che facevamo pallavolo così per divertimento di conoscerlo e quindi di farlo innamorare di questo sport. Ogni due anni abbiamo fatto una promozione, quindi abbiamo fatto la C1 che allora era nazionale, la B2, la B1, la A2 e poi nel 2004 siamo saliti in A1. È una storia bella, una storia che ha dei momenti positivi e dei momenti anche negativi perché nei cicli sportivi ci sono momenti positivi e momenti negativi e quindi forse se andiamo a trovare due momenti che sono, uno negativo perché è una retrocessione, avviene nel 2007, però c'è la pronta risalita in A1 ed è questa la cosa piacevole perché è molto difficile dopo una retrocessione risalire subito nella massima serie. Voi avete anche avuto l'interesse nei confronti di questa struttura che vi ospita, è un importante aiuto c'è stato da parte del gruppo Calipo? Questa è un'altra cosa positiva, noi abbiamo questa struttura in gestione, abbiamo una gestione di dieci anni, era una struttura che chiaramente ci serviva perché qua svolgiamo tutte le attività della società, quindi questa è una struttura impegnata tutta la giornata, sia di mattina che di pomeriggio e di sera e poi quest'anno questa struttura è stata oggetto di una ristrutturazione perché purtroppo abbiamo avuto dei problemi con una normativa della Lega a pallavolo per cui in fretta e in furia abbiamo dovuto fare dei lavori molto costosi e diciamo che questi soldi sono stati anticipati da parte del Presidente perché altrimenti non ci saremmo stati con i tempi e quindi anche questo è stato uno sforzo notevole, contemporaneamente a questo sforzo e quindi alla risoluzione di questo problema abbiamo dovuto costruire la squadra e quindi bisogna dare atto che abbiamo costruito secondo me anche una buona squadra e diciamo che il merito principale, il merito del nostro direttore sportivo è stato molto abile ad inserire in una base che veniva dall'anno scorso con giocatori di grande valore e uno dei quali è il nostro capitano qui a fianco altri giocatori di grandissimo valore, due sono qui, poi c'è un giocatore americano e poi ci sono una serie di giovani molto interessanti quindi io ritengo che, certamente poi sarà il campo a parlare e a dire la sua, però ritengo che sia una squadra di buon livello in un campionato che è più difficile diciamo dello scorso anno un campionato che si è livellato verso le posizioni di testa e quindi diciamo che ci sono 9-10 squadre secondo me che sono molto ben costruite escludendo le prime 4 che secondo me potrebbero, non dico fare un campionato a sé ma hanno senza ombra di dubbio qualcosa in più delle altre tutte le altre diciamo che siamo lì insomma e quindi io penso che sarà un bellissimo campionato questo, sì Allora mercoledì ci sarà l'ottava di finale a Monte Coppa Italia, una gara secca per i quarti di finale E sì, giocheremo con Ravenna, sarà non soltanto importante e quindi speriamo di superare il turno e poi di andarcela a giocare con Macerata ma sarà il vero e proprio impegno nostro, il primo, dove avremo la squadra titolare e quindi sarà una verifica per noi molto importante quindi io mi auguro e sono fiducioso che le cose andranno di sicuro bene sin da mercoledì e poi domenica successiva abbiamo questo esordio terribile in casa contro Macerata che è la squadra che ha vinto lo scuretto lo scorso anno e quindi anche lì si prevede una partita secondo me molto combattuta e io mi auguro che loro possano risentire un po' di questa sconfitta che hanno avuto ieri in Supercoppa Italiana e quindi mi auguro, sono fiducioso anche per tono Sicuramente, sicuramente, sicuramente Io vorrei parlare adesso con il capitano della squadra, Manuel Cascione Manuel Cascione è un giocatore che ha giocato solo in Italia, vorrei dare qualche dato tecnico quindi sempre in Italia, ha 18 stagioni, 223 vittorie e ha esordito per la prima volta a Shanghai, alle Olimpiadi di Shanghai, nel 2004, mi sbaglio? Nel 2004 era una World League con la nazionale, l'ho esordito allora e ho fatto con la nazionale dal 2004 a poco prima, diciamo, delle Olimpiadi del 2008 quattro anni, è giusto, ho 18esima stagione in Serie A e quindi sono, diciamo, grande, esperto Come si trova nell'attorno Calipo, nel senso di ambiente che comunque riveste una regione la Calipo è una, diciamo, rappresentativa di quello che in effetti è la nostra terra? Sì, io sto bene qua, tant'è che questa è la mia quinta stagione, non consecutiva in due occasioni, prima tre stagioni, questa è la seconda consecutiva quindi ovviamente questo significa che mi trovo bene è una realtà che ha un presidente che ha molta passione e che ogni anno investe parecchie risorse, sia economiche sia di altro genere si prende un impegno importante anche dal punto di vista sociale per portare in alto la città di Vibo che altrimenti forse nessuno sentirebbe mai nominare e quindi la portiamo in giro per l'Italia e penso che ormai sia una realtà affermata è tanti anni che c'è, la sua correttezza è risaputa in giro per l'Italia quindi è un'ottima realtà sportiva che coinvolge anche giovani e cerca di coinvolgere un po' tutta la città e tutta la regione perché ovviamente rappresenta un po' tutta la regione Un dato che non ho trovato neanche su Wikipedia Cosa ha fatto scattare in lei l'amore per il volley? Io ho cominciato quando avevo 13 anni, nel lontano 1993 perché è una passione che mi ha trasmesso mio padre giocando così in cortile, lui era appassionato di pallavolo non l'aveva mai giocato in nessun campionato nazionale però si dilettava con amici e quant'altro a giochi chiare e quindi mi ha passato questa passione da lì io vengo da una realtà che fino a pochi anni fa era quella di Cuneo che era una realtà sportiva a livello pallavolistico una delle migliori d'Italia quindi ho fatto tutto il settore giovanile lì e quindi poi sono venuto fuori in questa maniera Invece passiamo ad un altro giocatore della Callipo che non ha avuto il papà che giocava nel campetto sotto casa a pallavolo ma è una medaglia olimpionica Oleg Antonoff Oleg, allora l'amore ti è nato attraverso tuo padre e un'altra cosa vorrei dire per coloro i quali pensano che nello sport i giocatori, qualsiasi sport che non siano italiani nel caso nostro non abbiano amore per la terra dove vivono io dico che prima prima che iniziassimo le riprese ho detto vabbè accanto a me quello italiano, italiano si è girato lui e mi ha detto italiano, italiano lui è italo-russo ma è italiano, è vero Oleg Sì, sono italiano il mio sangue è russo non è quelle mie origini sicuramente però dentro mi sento totalmente italiano Quanto sei alto? Due metri E cinque se non sbaglio No, no, no Due metri Lui è più alto Ora basta lui Io due metri con le scarpe È bassino, è bassino È bassino Allora, anche tu Quindi diciamo che hai fatto un volo enorme Italia, Russia Papà russo Grande campione Terra calda Terra calda la Calabria Com'è? Molto calda sia come clima sia come accoglienza Infatti sono arrivato qui Ho trovato un popolo molto disponibile ad aiutare in qualsiasi situazione E sono molto contento e mi piace Siamo molto contenti anche noi di averti qui con noi Adesso abbiamo Abbiamo un altro giocatore Il belga Vero? È un no Peter Veresch 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 Allora È un incrocio tra l'olandese e il francese Sì Io abito molto vicino ai confini di Olanda Quindi È un po' un misto, sì Ok Due metri e cinque Sì, esatto Sono io Perfetto Allora Peter Tu sei in questa squadra da quanto? Anche per me Primo anno che sto giocando qua Vibo Valencia Prima ho giocato a Modena A Latina E a Monza E poi Nuova esperienza qua al Sud Italia Scommetto che se ti chiedo dove hai giocato meglio Tu dici Vibo, vero? Dimmelo, dimmelo Dimmelo perché dietro c'è il supervisore Sì, esatto Adesso sono arrivato due o tre settimane fa Quindi devo scoprire ancora un po' Come funziona qua Al Sud Però Sicuramente mi trovo bene qua E la squadra? Tu come la vedi? Ecco Le squadre devono essere unite fra di loro In qualsiasi sport E questo è il senso dello sport Proprio l'amicizia L'unione L'unione fa la forza E diciamo Il motto che In effetti Calza benissimo Per quanto riguarda lo sport Tu hai trovato Quest'unione Nella Callipo? Ma sicuramente Perché Tu puoi prendere Sei giocatori Molto forti In squadra Perché loro Devono giocare Tutti insieme Per vincere una partita E quindi Adesso Stiamo trovando Stiamo cercando I ritmi giusti Per Per approcciare Il prossimo Quello che arrivano Fra qualche giorni Però Sono davvero Sono Filuzioso Sì Io vorrei Sottolineare Che non è qui presente Il presidente Pippo Calipo Semplicemente Per Un'influenza Capita anche Ai più grandi E quindi Anche il presidente Calipo Ha questa problematica Io vi vorrei salutare In mezzo a tutte e quattro Per farvi vedere Quanto sono più alta Di loro Vi potete alzare Per favore Per farmi vergognare Ancora di più Io i tacchi alti Sono così E sono Sì no ma anche Io sono questa Io arrivo A fianco Di uno Di uno di questi Però sono contentissima Rappresentano noi Rappresentano la Calabria Rappresentano La Calipo Gruppo La Volley Calipo E spero veramente Che arriviamo Al massimo Di tutte le medaglie Di tutte le coppe Che questa squadra Potrà prendere Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti